Un po' reggia un po', in attesa di debuti ieri. Cerca con lui un buco, riesce a passare Pega Bomben che allunga in qualche modo, e Piscaglia lo ferma. Molto Pega più Piscaglia. E' arrivato a Norcchio, ma Piscaglia benissimo. E' riuscito come una francesina a fermarlo con un tocchetto sul tallone. Piscaglia è uno di quelli che in evidenza oggi. E' un ragazzo veramente fortissimo. Ha una grinta pazzesca, aspettavo moltissimo questa convocazione.